Ecco, adesso ci facciamo una foto con il nostro albergo, un bel selfie, eccoci qua. Tommaso naturalmente non partecipa, perché lui... Stampato? Ma si vede l'albergo? No, la devo fare verticale, vieni un po' mamma. La devo fare verticale. Facciamola in verticale, vai. Eccoci. Click. Basta. Amo? Va bene, a dopo. Noi continuiamo nel nostro tour. Eccoci.